L'edizione 2021 del Festival delle Geografie è stata realizzata con il supporto di oltre 70 volontari, coinvolgendo oltre 1.500 persone che hanno partecipato a più di 30 eventi diversi, conferenze, laboratori, mostre, momenti di musica, poesia e molto altro. È in arrivo la quarta edizione 2022 del Festival delle Geografie di Villa Santa. Dal 15 al 18 settembre 2022 E se domani, geografie per abitare il futuro, scopri di più sul sito festivalgeografie.it